U passa appuntamenti fino al 19 gennaio, malessere per Irene, Ida manipolata nuovamente. Aria tempestosa post-Artor La prossima puntata andrà in onda dal 15 al 19 gennaio e sarà incentrata sulla famiglia Sartori-Cirillo. Tutto inizia con la giovane Irene che si sente profondamente insicura, preoccupando sua madre Serena e suo padre Filippo. Nel frattempo Diego torna in Polonia per incontrare la sua amata Ida. Ma i problemi diventano ancora più grandi quando Giordano e suo padre Raffaele scoprono il passato della ragazza. La malattia di Irene preoccupa i suoi genitori. Guido punisce Mariela a lavoro e scatenerà la sua rabbia su Mariela, che non esita nel suo comportamento ostile a casa. La gente del web potrebbe prendere in considerazione l'idea di pubblicare delle scuse sui social media, ma ciò non farebbe altro che peggiorare la situazione. Intanto la giovane Irene vive delicati periodi di profondo disagio, durante i quali fa i capricci e diventa nervosa. Serena e Filippo sono scossi dal comportamento della figlia e si chiedono se si tratti solo di una cosa temporanea o se dietro ci sia qualcosa di più serio. Ipotesi su cosa accadrà Irene la prossima puntata di Upa sarà ancora una volta incentrata su Irene. Per la ragazza inizia un periodo di cambiamenti interiori, quindi non è da escludere che le succeda qualcosa di grave. Il suo comportamento lunatico e nervoso può dipendere dai tipici anni dell'adolescenza, ma non è certo. Serena e Filippo devono affrontare questa strada, nel bene e nel male. In tutto questo bisogna tenere conto del fatto che questa ragazza soffre di una rara malattia genetica che le è stata diagnosticata diversi anni fa. Diego è deluso da Aida e Marina e Feli riescono a manipolarla nuovamente. Diego e suo padre indagano invece sul passato di Aida e scoprono che lei ha dato alla luce un bambino e lo ha dato a una persona per denaro. Deluso da quanto apprende, Diego affronta la ragazza, ma Raffaele lo esorta a pensarci due volte prima di prendere una decisione in merito. Nel frattempo Roberto e la moglie progettano di riconsiderare la questione e proporre qualcosa a Aida, ma la ragazza fatica a rifiutare ingenuamente. E quando Diego e Raffaele apprendono che Aida ha ceduto ancora una volta a Marina e Ferri, diventano ostili nei confronti dei due coniugi e si rendono colpevoli di manipolazione. E se Tommaso si sentirà escluso dalla vita di Tommaso, Roberto farà terra bruciata attorno a Raffaele. Spazio anche a Viola e Damiano. Nunzio è nei guai a causa di persone sospette. La loro relazione ha messo in crisi il rapporto tra Bruni e suo figlio Antonio, quindi nella nuova puntata vediamo come il ragazzo abbia ancora un atteggiamento freddo nei confronti della madre. E mentre Viola deve valutare se accettare la proposta di lavoro, l'ex marito Eugenio si ritroverà interessato alla collega Lucia Cimmino. La serata della pizza si trasforma in una sorpresa per Nunzio, che deve placare l'ira di un cliente meschino. Non appena la situazione al vulcano Caffè si sarà nuovamente calmata, Nunzio sarà in serio pericolo.